Pino Daniele stacca. A tempo di record, poco distante dalla strada in cui era nato e sotto quella in cui era cresciuto, ecco via Pino Daniele, inaugurata alla presenza dei familiari e degli amici di musica e di vita del cantautore. È stata fatta un'eccezione alla norma che impone che siano passati dieci anni dalla scomparsa per poter intitolare una strada, ma tutto quello che si è mosso per Pino, a partire dal flash mob, poi con il funerale organizzato in sette ore ed anche ospitando le ceneri al maschio Angioino, dimostra quanto la città lo abbia sempre sentito come una cosa sola con se stessa. Io ringrazio tutte le istituzioni che ci hanno pensato da subito, non era facile programmare tutto in fretta, siamo strafelici che sia anche una piccola parte, ma un pezzo di cuore della nostra città, ma del nostro quartiere, perché siamo nati e cresciuti qui in questi piccoletti, siamo bambini, siamo diventati grandi e adesso siamo molti insieme. Ringrazio il mio fratello, l'altro mio fratello, Salvatore, grazie al sindaco, grazie a tutti, Pino sta qua con noi e ce lo vediamo. E credo quindi che tutto questo dolore che abbiamo provato per questa assenza non è stato inutile, anzi, ha molto, come sempre diciamo, non solo ci ha donato tantissimo in vita, ma anche con la sua scomparsa in un momento difficile ci ha donato una cosa importante, quella di sentire questo orgoglio, di riconoscerci come comunità, di sentire che nonostante i tanti problemi, le tante nostre difficoltà, poi in fondo c'è dentro, a fondo di questa città una grande energia creatrice. Un'ulteriore tappa nel ricordo costante di uno dei più grandi artisti napoletani contemporanei, intitolazione La strada nel luogo in cui Pino è nato e quindi si è formato, in cui è diventato un grandissimo cantautore, poeta e musicista che trasferisce nel mondo l'orgoglio di essere napoletani. Quindi siamo molto contenti oggi, ci saranno tante altre cose come sin dall'inizio. Napoli ha ricordato in modo straordinario Pino, con una grande mobilitazione popolare costante, un impegno forte del comune che ci ha creduto molto, ringrazio tutti gli artisti, gli amici di Pino, i familiari, il popolo, perché Pino è Napoli. Il prossimo capodanno lo vogliamo dedicare a Pino, si conclude un anno, un anno triste, ma la musica di Pino non può essere solo triste, è anche vita, è anche allegria, è anche gioia. Quindi il prossimo capodanno metteremo insieme tutti gli artisti che vorranno suonare con Pino per Pino.